Il Tribunale Amministrativo Regionale Sezione di Catania ha riconosciuto che eravamo nel giusto quando protestavamo contro la realizzazione del catafalco all'interno dell'area del Castello Maniaci di Siracusa. Lo ha dichiarato l'ex parlamentare regionale Enzo Vinciullo. Ancora una volta è stata bocciata l'amministrazione comunale di Siracusa che con l'attuale sindaco in piena campagna elettorale aveva primo autorizzato e poi non controllato la realizzazione di questa imponente struttura all'interno di un'area di straordinario valore storico, culturale ed archeologico. Adesso, ha proseguito Vinciullo, continueremo a vigilare affinché con la celerità del caso si dia esecuzione alla decisione del Tar. Con la sentenza odierna il Tar di Catania ha riconosciuto la bontà dell'azione di protesta intrapresa dal centro-destra siracusano. La nostra, infatti, ha concluso Vinciullo, è stata una battaglia portata avanti nell'interesse esclusivo della nostra città e a tutela del nostro patrimonio storico e culturale. Sulla vicenda è intervenuto anche l'assessore comunale Fabio Granata. Io sono abituato per cultura politica personale di non commentare mai le sentenze. C'è una sentenza che va osservata e con tutto ciò che era successo rispetto alle critiche legate a questo progetto, tutto si doveva fare tranne che non ottemperare rigidamente a quelle che erano le prescrizioni progettuali. Se si è, come dire, addivenuti a una trasgressione, questa trasgressione va, come dire, corretta, così come la sentenza dice. Poi, ovviamente, si è liberi di appellarsi al CGA. Io agli imprenditori consiglierei di regolamentare, secondo le prescrizioni, la loro attività e di chiuderla qui, perché questa città non ne può più di dare TGGA. Passatemi la battuta.